un'altra apparecchiatura di un recinto elettrificato questo è completamente meccanico la parte più delicata sono questi contatti che interrompono la bobina che induce l'alta tensione vediamo il funzionamento accendiamo attenzione 8.6 volt accendiamo l'apparecchiatura ecco si sente questo pack perché è completamente meccanico il punto più critico è questo se non lavora bene questo contatto non si producono le scintille l'unica cosa che ho sostituito e questo condensatore che era leggermente in perdita per il resto vedi ci sono un paio di dio di quattro resistenze un trimmer tutta roba meccanica la scintilla generata è circa 2 kilowatt vediamo un po se riesco a farlo a vedere quello qua richiuso è è è è ecco